Ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice JOKER puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars Trovate il link di Footloot in descrizione Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati a questo giacare, siamo tornati signori con un nuovo video di FIFA 19 Sono qua ragazzi oggi per provare ad andare a fare la sfida dei Todi Io ragazzi oggi non ci avevo mai provato a fare i Todi dentro l'unico draft Praticamente da quello che ho visto io, ho messo Todi, il record mondiale, il record italiano, quello che volete Nell'ultimi giorni, mi sono uscito alcuni video e mi è uscito un video di FuseGamer dove ha fatto 4 Todi in un'unica squadra Quindi io non so ragazzi se il record mondiale sarà 5 o se il record italiano è 5 Oppure se da battere il record mondiale è tipo 10 Todi, ma che ne so io ragazzi, non lo so Quindi ho visto gli ultimi video e mi andrò a tenere in base a quelli là Quindi ragazzi noi attualmente per andare a battere il record dobbiamo fare 5 Todi in un'unica squadra Cosa dobbiamo fare? Accendiamo il draft quindi mi raccomando ragazzi subitissimo un bel like Cerchiamo di raggiungere gli 8000 mi piace Direi di iniziare, mi raccomando prima di iniziare questo video Qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball gratis Quindi mi raccomando scaricatelo Accendiamo il draft, andiamo con i green perché non c'ho i fa points e non mi li fa acquistare Quindi non so perché non mi li fa acquistare Vediamo il modo che ci possiamo prendere Che ci potrebbe dare qualche Todi raga Allora io direi di andare con CDC ci potrebbe dare qualcosina De Bruyne come COC, ATT Vabbè proviamo questo qua, versino a sinistra ci potrebbe dare Marcello Vediamo un po' ragazzi se ci da qualche bel Todi No, ci da un Icon Ma andiamo a fare il record di Gone Guarda che è tutto un altro video ATT qua direi un bel Ronaldo O Messi Ce lo potessi anche dare E ovviamente non ce lo da Ci prendiamo l'avandello Lewandowski Altro ATT, Ronaldo, Messi Niente raga Non ci da nessun Todi momentaneamente COC sicuramente ci darà un'icona Infatti ci da Pelé Ragazzi stiamo facendo tutto tranne quello che devo fare io Altro COC mi da Maradona No, ci da Neymar Mamma mia che squadra Amo famo il 194 Famo ancora un altro video E sta cosa non è buona Ancora CDC Mi serve un Kanté per favore Niente ci da Fabinho Non va raga, non va Tersino sinistra almeno un Marcello Bene, il record di Todi Qua non ne avevamo fatto neanche uno momentaneamente Ma grazie Marcos Alonso Ramos, Van Dijk Ma sì raga Oh, neanche un Todi Qua non ci sta manca il record Qua già tanto se ne trovo uno io raga Ci da Godin Tersino destro Fa come te pare Che me dai Mamma mia Che faccio qua raga Portiere, un Deghe almeno Niente Ecco ci da Deghe ma ce lo da normale Madonna mia raga Che schifezza E riserve Madonna raga Ma qua non lo faremo mai il record Ma Veramente Ma chi Che m'ha trovato Ma chi è questo Nakajima Ma chi è Ma andando viene Niente Non mi da nulla Non mi da Oh Questo è il record ragazzi Il record è non trovare neanche un Todi Se voi ci riuscite Me lo scrivete qua sotto i commenti Perché non è possibile Oh Troviamo un'altra icona Ma io dico Ma mannaggia Alisandri No Ma come cavolo è possibile che non mi arriva Uno Non me ne ha dato uno raga Neanche mezzo Niente Niente Qui Niente Eusebio E va bene Continuiamo con l'icone Stiamo facendo tutta un'altra sfida raga eh 42,78 Vediamo qua almeno Uno me lo dai per soddisfare Ci da Ronaldinho Eh ragazzi Mi sta prendendo riccamente in giro Ve lo dico proprio chiaramente Ce l'ha con me Ce l'ha con me raga Assolutamente sì Siamo a 5 icone Siamo a 92 5 icone Mi dai un cavolo Oh uno me ne devi dare Niente Non gliene fotte proprio Ci prendiamo il portiere Poi vediamo se tanti volte ci da Yashin Odè che si Odè che ha già ce l'ha dato quindi niente Ragazzi Primo tentativo Non ci da neanche un todi Quindi io penso Sono fortunato Se già tante volte Me ne da almeno uno Ok ragazzi Proviamo con un altro modulo E speriamo che tante volte Ci dasse i 27 todi Tutti insieme Allora Che modulo mi posso prendere Quello con 3 difensori Non sarebbe male Io mi prendo questo con ATD Perché ci potrebbe dare anche Mbappé O Neymar Non lo so Intanto ci da Cruif AT95 Non ci da Ronaldo 99 ATD Qua un bel Mbappé Ci da Bess Figo Guarda Madonna mia Ci da doppia icona Mò facciamo il record D'icone ATS Me lo dai Neymar Me lo dai Neymar Oh Dai almeno uno Grazie Neymar Esterno sinistro Non lo so Fa come te pare Ci prendiamo Son Esterno destro Andiamo con esterno destro Ragazzi Non so se ci potrebbe dare Qualcosina Ci da Bernardeschi Centrocampista Modric Dagli De Modric No Ci da Eriksen Dammelo qua Modric Dai Ehi Buonasera 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 Ramos Varane Van Dijk 3 todi Dai Oh Varane ce l'ha dato E siamo a 2 Ramos Van Dijk Ramos Van Dijk Van Dijk Van Dijk ma me l'ha dato normale Ma te possino ammazzate De Gea Dammi De Gea Dammi No ma non darmelo così De Gea Prendo Navas ragazzi Che forse ci potrebbe stare La speranza che me l'ha dato Non lo so Siamo a 2 Siamo a 2 Andiamo di riserve Speriamoci da qua pure Messi Ronaldo Ce ne stanno tantissimi Solo io non riesco a trovarli Ecco ci da Suarez Che non ci serve a niente Non ci serve a nulla Qualcosina qua ci potrebbe stare Oh Il prugnetta così inaspettatamente raga E direi che è super eccezionale E siamo a 3 Siamo a 4 A 3 Toti raga Un bappé dammelo però Dammelo un bappé Ci da anche figo Cioè trapposta ma fa di nuovo il 193 qua ragazzi E ve lo dico proprio chiaramente Dai 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 Dammi qualcos'altro di buono E da Nazarde non ci serve Mettiamo Suarezone Questa pure non è buona Mannaggia la miseria Dai andiamo avanti Questa potrebbe darci qualcosina E non ci da Non ce lo da Ci da Kagawa Che non ci faccia Siamo ancora a 93 91 Cioè secondo me se contavamo Che mi dava qualcosa di buono Facevamo forse il 194 Addirittura Questa è carta buona Dammi un altro Todi Guardalo Modric No me lo danno 91 Vabbè ormai lo devo anche prendere Ragazzi Perché tanto Modric Non ci può più uscire Quindi puntiamo qua Qualc'altra cosetta Dai ti prego Un altro Todi Ci da Zanetti Da Zanetti Siamo a 3-5 icon Pure volendo Pure se prendo Godin Questa pure è carta buona Dammi un altro Todi Facci sognare Niente Ci da Lala o Alex Telles Dobbiamo sperare a questo punto Che ci da un portiere raga E che mi da tante volte Un Degheatoti Così almeno andiamo a 4 Todi Non sarebbe male Attenzione Guarda che pezzo di fango Non ce l'ha dato Lioris o Oblak 92-97 La squadra La squadra è buona raga La squadra è buonissima Solamente che non mi ha dato Non mi ha dato niente Di quello che mi aspettavo io Sinceramente Neanche 192 proprio Madonna mia raga Peccato Ok ragazzi proviamo Con un altro tentativo Allora che modulo ci possiamo prendere Io dipendo Dai prendiamoci questo qua Vediamo se tante volte Ci da subito Un bel Toti E non ci da niente Bene prendiamoci Griezmann Andiamo ancora con ATT Ronaldo Messi qualcosa Ci da Mbappé raga Poteva darcelo Tranquillamente Toti Bene Mazza Che bende dios CoC Come c'è da Pelè Maradona Vediamo un po' E infatti ci da Maradona 98 Andiamo cdc ragazzi Un bel Kanté Forza di Kanté E dai oh ma porca miseria Ma vuoi darmi un Kanté Dai dai Questo è Kanté Questo è Kanté Me lo sento E daccelo Kanté Madonna mia Terzino sinistro Marzelo Niente Niente raga Niente ragazzi Difensore Ramos Van Dijk Oh Varane Ottimo 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 Ci da Varane Ancora difensore Ramos Ti prego Uuuuh Ci da anche Sergietto Ramos Buono raga Siamo a due Terzino destra Non lo so Fa come te pare Tanto qua non ci stanno Tutti i terzini destri Ci vediamo Alexander Portiere un Deghea Sarebbe eccezionale Ma ovviamente Non ce lo dà Andiamo ancora avanti ragazzi Ci deve dare tutto Adesso Qualcosa qua ci potrebbe dare Dai Niente Non ce lo dà Mort Te acide Pippo Morta Siamo a due Prima ne abbiamo fatti pochi raga Siamo a due Almeno non dico tanto Oh Neymar Neymar raga Vorrei arrivare almeno a 5 4 5 Non lo so Eh no Vorrei arrivare a qua Almeno a 5 Per battere Il video che ho visto Di Fuse Andiamo ancora avanti Mamma mia Non ci da niente Attualmente siamo a 3 Ecco il quarto Dai che ce lo dai Aspettate che ce lo dai Ma dove sta Cantè Dove stanno Tutti sti belli giovani Stomotrice 99 Stornaldo 99 Stonino del Messi Ma dove sono De Gea pure Questo potrebbe starci Madonna mia Ci doveva prendere Giordino Alba raga Andiamo ancora avanti Dai qualcosa qua ci sta Forza Dammi adesso Inzaghi Lo mettiamo Al posto di Griezmann 92 96 Addirittura Noi tra poco facciamo Stiamo sempre avvicinando Comunque al 193 Raga Questa cosa Ci avete fatto caso Dai questo è Todi Questo è Todi Questo è Todi Cantè raga Cantè Forza Forza con Cantè raga Che andiamo pure al 193 Siamo a 4 Siamo a 4 raga Dobbiamo trovarne Almeno un altro 93 96 Addirittura 93 96 Dobbiamo trovare un altro Todi raga Per andare a 5 E battiamo il record Da quello che ho visto io Battiamo il record E poi non lo so raga Se qualcuno ha fatto qualcosa di più Ditemi voi Non lo so Dai Oh Van Dyke L'abbiamo fatto raga Siamo a 5 Ce l'abbiamo fatta raga Siamo a 5 Non lo metto però 5 Todi raga Quindi praticamente Vi rifiuti Abbiamo fatto il record 5 Todi raga Ci potrebbe dare ancora De Gea O ci potrebbe dare Non lo so Dai Siamo a 5 Facci fare 6 Facci fare il sesto Todi Madonna mia raga 5 Todi Potrebbe essere quasi Il 193 Non lo so raga Perché il 92 93 Però Stavamo messi molto bene Vediamo un po' Ti prego Dammi il portiere Buono Ah Peccato Peccato raga Ci da 5 Todi E a questo punto Credo di aver fatto Il record ragazzi Io posso provare A sistemare Vedete se viene fuori Il 193 Ma non credo proprio Cioè metto tutti i giochi Dei più alti Di overall Avanti Qui facciamo il cambio Con l'82 E niente 92 93 Però ragazzi I miei 5 Todi Neymar Ramos Cantì Varane Van Dijk C'è pure Maradona Ammazza che bella squadra Questo video ci sta a termine Spero ovviamente Vi sia piaciuto Ragazzone siamo arrivati Alla bellezza Di 5 Todi In un unico draft Secondo me È il record È stato superato È stato battuto Perché ho visto Gli ultimi video Messo in base A quelli più recenti E mi è uscito Che hanno fatto 4 Todi In un unico draft Io non ho fatti 5 Quindi probabilmente Ho battuto il record Però ragazzi Se tante volte Vuoi conoscere qualcuno Che ha fatto Un record maggiore Sia italiano O mondiale Di Todi In un unico draft Mi raccomando Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Ragazzi Gli andrò a dare un'occhiata E vediamo un po' Che ne so Gioco il record italiano E ho 7 Il record mondiale 9 Che ne so io ragazzi Me lo fate sapere voi Perché non lo so sinceramente Quanto è il record Io mi sono basato Sugli ultimi video caricati Mi raccomando ragazzi Spero questo video Vi sia piaciuto Comunque 5 Todi Una squadra bellissima Anche con Maradona Enzaghi e Mbappé Quindi molto buona Vi vedo a passare Qua fianco a me ragazzi E vi vedete altri due video Se tante volte ancora Non l'avete visto Cliccate con il città Cliccate il canale Cliccate la campanella A prendermi su video Noi ci vediamo Un po' E bene ragazzuoni